A Foggia il futuro nasce dalla terra si è svolto un incontro sui temi del lavoro agricolo e dell'immigrazione presenti ai consolati, istituzioni e dirigenti sindacali. Nuovo servizio di car sharing attivo da oggi a Bari che coinvolgerà principalmente studenti turisti ma non solo i dettagli nel Tg di Antenna Sud. I lavoratori della Baritec hanno deciso di occupare l'azienda dopo aver messo l'avvertenza nelle mani del numero uno di Confindustria Bonomi, l'incontro a Palazzo di Città e le notizie sulla possibile vendita dell'immobile. Ed eccoci al Tg dedicato alle province di Bari, della BAT e di Foggia. Apriamo però con la cronaca, lo dicevamo nei titoli, l'ombra della tortura a Bari. Tre agenti della polizia penitenziaria sono finiti ai domiciliari, le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo regionale. con le accuse tutte da dimostrare di tortura in concorso ai danni di un detenuto di 41 anni. I fatti risalgono all'aprile scorso. Sentiamo nel dettaglio quello che è successo nel servizio di Antonio Bucci. L'accusa è quella di tortura in concorso e si sarebbe concretizzata in calci e schiaffia i danni di un detenuto che sarebbe stato anche bloccato sul pavimento sul quale era riverso. In tre agenti della polizia penitenziaria di Bari sono stati arrestati, sei invece sono quelli sospesi. Le presunte violenze su un 41enne affetto da patologie psichiatriche si sarebbero verificate il 27 aprile scorso nel carcere di Bari. 15 sono in tutto gli indagati, fa sapere la procura del capoluogo. L'indagine è tuttora le fasi preliminari cui seguirà l'interrogatorio di garanzia ed è partita da una segnalazione della direzione del comando e della polizia penitenziaria dopo un intervento contestato in una cella di detenzione. Quattro minuti in tutto si legge nella nota dell'arma. Alcuni agenti, secondo l'accusa, sarebbero intervenuti infatti nella cella del detenuto in questione Reo di aver dato fuoco al materasso. Le violenze sarebbero avvenute durante il trasporto del 41enne nell'infermeria del carcere. Inoltre, non sarebbe stata segnalata alcuna lesione ai suoi danni. Durante l'attività investigativa per ricostruire l'accaduto sono state già acquisite le immagini delle telecamere interne. Fatto del giorno a Bari è la visita del neoministro dell'interno Matteo Piantedosi che è venuto nel capoluogo regionale proprio per inaugurare una nuova struttura, un centro di urno per le vittime di tratta. che è stato inaugurato sul lungomare di Bari. C'erano ovviamente tutte le autorità, ma andiamo con ordine. Vediamo prima il servizio di cronaca e poi ascolteremo le voci. Intanto sentiamo Antonella Fazio. Un luogo di ascolto, aggregazione, formazione e inclusione lavorativa proprio laddove fino al 2006 il clan Capriati faceva prostituire le sue donne. Nuova vita per la villa sul lungomare sud di Bari con l'apertura della prima drop house, ovvero centro di accoglienza diurno destinata alle donne vittime di tratta. Si chiamerà Amaranta la struttura affacciata sul mare ed estesa su una superficie di circa 600 metri quadri concessa dal comune di Bari nel 2009 al CAPS con l'impegno di riconvertirla a fini sociali. L'idea del progetto è quella di agganciare le donne che vogliono fuoriuscire dalla loro condizione di sfruttamento e violenza proponendo azioni di emersione, presa in carico, formazione e inserimento lavorativo delle vittime nel campo della ristorazione e dell'ospitalità turistica. Ci sono voluti circa 15 anni, ma alla fine il bene confiscato con fondi per 500 mila euro è stato inaugurato con una delle prime uscite pubbliche del ministro degli interni, Matteo Piantedosi. Molto significativa perché incrocia diversi temi quello della ridestinazione a scopi sociali dei beni sottratti alla criminalità organizzata un'iniziativa molto positiva perché qui verrà in qualche modo trattato il problema delle vittime della tratta, uno dei reati più odiosi che esistono perché sono i reati che sfruttano la povertà degli uomini, delle donne per poi trasformarli in schiavitù e quindi molto contento sono iniziative che sono anche simboliche del fatto che appunto come ho detto non ci si muove su questi temi solo per emozioni, per emotività ma anche per iniziative concrete che si preoccupano poi ecco di trattare i problemi che i territori vivono concretamente. E come è immaginabile le autorità locali e regionali hanno presenziato oggi la presenza del ministro Piantedosi, abbiamo ascoltato alcune voci tra queste anche quella del governatore Michele Emiliano e del sindaco della città metropolitana Antonio De Caro. In Puglia il modello di accoglienza dei flussi migratori grazie alla collaborazione tra Regione Puglia, Comuni e Prefetture ha funzionato sempre molto bene è chiaro che però raccogliere la gente in mare che arriva in maniera disperata nelle mani di organizzazioni criminali che fanno la tratta delle persone è la cosa più sbagliata del mondo bisogna avere il controllo dei flussi e il controllo dei flussi si ha attraverso la legalizzazione dell'immigrazione cioè non farla diventare un reato se si passa col passaporto, col biglietto di un traghetto o di una nave si possono regolare i numeri, si possono regolare le date si può evitare di dover fare il soccorso in mare si possono identificare, si possono indagare i criminali che dovessero arrivare in questa maniera e il sistema è più semplice d'altra parte 20 anni fa abbiamo fatto questa cosa con l'Albania non è l'unico immobile che è stato confiscato e è stato restituito alla città sono 122, molti vengono utilizzati per dare una risposta all'emergenza abitativa per le famiglie che sono in difficoltà dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico altri luoghi sono diventati simbolici la Gebeo per dare ospitalità a quelle famiglie che vengono da fuori regione hanno i bambini malati di leucemia ricoverati negli ospedali cittadini Artemisia che è diventato, era la villa di Lazzarotto un criminale calabrese che era venuto qui a fare affari con la criminalità barese che è stata destinata a bistro sociale e struttura ricettiva altri due immobili uno confiscato alla famiglia Parisi e un altro confiscato alla famiglia dei di Cosola saranno invece utilizzati per asilo nido all'interno del quartiere San Giorgio che non ha mai avuto l'asilo nido e come birificio sociale con un percorso per alcuni ragazzi che hanno fatto una riabilitazione all'interno della masseria Chiangone nella zona tra Carbonare e Cegli Cambiamo adesso argomento si vivono momenti di apprezzione a Barletta sono ore particolari perché dal lunedì non si hanno più notizie di Angelica Milena Rociola una ragazza di 24 anni ipovedente scomparsa da oltre 48 ore l'appello è stato lanciato sui social dai genitori della 24enne anche da suo fratello che hanno già coinvolto le forze dell'ordine l'associazione famiglie e amici delle persone scomparse Penelope Puglia al momento della scomparsa Angelica indossava un pantalone nero a poa bianchi una felpa nera con borchi e dorate scarpe bianche zinniche ed una borsa a quadretti la cittadinanza si è già mobilitata per aiutare a diffondere il messaggio e implementare le ricerche ricordiamo che di Angelica non si hanno più notizie da 48 ore andiamo avanti adesso spostandoci però in terra dauna a Foggia dove il futuro nasce dalla terra si è svolto oggi un interessante e importante incontro sui temi del lavoro agricolo e dell'immigrazione presenti tra gli altri consolati, istituzioni e dirigenti sindacali ci racconta tutto Antonella Davola a Palazzo Dogana Foggia si parla di lavoro agricolo e immigrazione il futuro che nasce dalla terra e questo è il tema dell'incontro organizzato e promosso da CISL, FAI e ANOLF di Foggia e dalla CISL Puglia per proporre un monitoraggio del territorio degli uomini e delle donne che lavorano la terra e riflessioni su come il settore possa essere attrattivo per i giovani per i meno giovani ed anche per gli immigrati l'analisi è servita a comprendere dove e come si stia orientando il mercato del lavoro agricolo e come le risultanze proposte possano incidere attraverso le scelte fatte dai produttori, dagli imprenditori e da tutte le componenti economiche e sociali del territorio sul futuro agricolo della Capitanata e il problema che abbiamo è quello della filiera spezzata che porta il valore aggiunto in altri territori mentre qui abbiamo dei prodotti di eccellenza questo tema si interconnette molto anche col discorso dell'immigrazione per quanto ci riguarda noi cerchiamo di essere presenti di dare il nostro supporto ovviamente non basta pertanto il futuro sarà spero foriero di grandi alleanze per dare risposte soprattutto ai nostri giovani e nel settore agroalimentare che rappresenta il lavoro immigrato è estremamente importante se pensiamo che su 1.100.000 lavoratori presenti in agricoltura in Italia 350.000 sono lavoratori immigrati e stiamo assistendo a un tasso di sostituzione di lavoratori italiani a favore degli immigrati sempre più accentuato noi stimiamo che entro il 2030 avremo 50% di lavoratori immigrati in agricoltura le immigrazioni sono un'opportunità per il nostro territorio sono un'opportunità per il nostro paese perché per alcuni lavori abbiamo bisogno di forza del lavoro ovviamente però il lavoro come dice la nostra Costituzione deve essere fatto in dignità, in sicurezza preservando la salute, preservando l'ambiente continuiamo a parlare di lavoro ma torniamo a Bari con un'avvertenza che assume contorni sempre più preoccupanti parliamo della Baritec i lavoratori hanno deciso di occupare l'azienda dopo aver messo in avvertenza la situazione il tutto è finito nelle mani del numero 1 di Confindustria Carlo Bonomi nelle scorse ore nel capoluogo regionale l'incontro a Palazzo di Città Bari e poi le notizie sulla possibile vendita dell'immobile hanno scatenato la reazione dei lavoratori e dei sindacati che dunque come dicevamo potrebbero già da questo pomeriggio occupare la sede di Baritec sentiamo Antonio Bucci hanno deciso di occupare l'azienda fino a quando non ci sarà una soluzione condivisa in grado di salvare tutti i livelli occupazionali a rischio solo i lavoratori di Baritec nelle scorse ore hanno messo l'avvertenza nelle mani del numero 1 di Confindustria Carlo Bonomi le novità in compenso sono le altre notizie sulla vendita dell'immobile emerse a margine dell'incontro a Palazzo di Città Bari e invece del sindacato non hanno alcuna intenzione di transigere sulla necessità di tenere insieme infrastrutture e capitale umano senza slegare le trattative i tempi sono stretti sono quelli degli ammortizzatori sociali che scadono a fine anno tanto più dal momento che sarebbero già sfumate due manifestazioni di interesse ad incontrare la rappresentanza anche il vice sindaco del capoluogo Eugenio Di Sciascio faremo tutto il possibile di concerto anche con la regione ma anche con gli eventuali acquirenti per scongiurare la perdita dei posti di lavoro oggi il lavoro va a difesa della cosa essenziale per qualsiasi possibilità di sviluppo è emersa una notizia ufficiale che è la chiusura appunto del contratto di acquisto da parte del gruppo Conserva della sede di Baritec è una notizia drammatica perché non tiene dentro la salvaguardia occupazionale quindi la decisione immediata del fronte sindacale di occupare immediatamente la sede di non fermarsi in questa azione di mobilitazione e di lotta un momento importante che è con l'incontro con le istituzioni in quanto abbiamo non soltanto denunciato la situazione di malessere e di drammaticità dei Baritec e delle 116 famiglie in esse che sono in difficoltà ma soprattutto abbiamo anche condiviso un percorso strategico di condivisione e di coordinamento non soltanto tra le forze sociali ma anche con le istituzioni Parliamo adesso di mobilità urbana perché da oggi c'è un'importante e interessante novità a Bari con il nuovo servizio di car sharing che coinvolgerà principalmente studenti, turisti ma non solo e allora i dettagli nel servizio di Domenico Brandonisio al via il servizio di car sharing a Bari importanti le quantità di microcar e scooter elettrici a disposizione di studenti, lavoratori pendolari, turisti e di tutti coloro che preferiscono spostarsi in modo green rinunciando all'auto privata la proposta è di Picident e si basa su un sistema di mobilità capace di adattarsi al contesto urbano fondamentale l'assenza di emissioni di CO2 Un bando specifico per car sharing e scooter sharing avremo presto una flotta cospicua costituita da ben 375 scooter e 80 autoveicoli i primi 20 circolano dalla giornata di oggi e sono quelli di Picchirent a questi si aggiungiranno quelli di Smart Venture che è un altro degli aggiudicatari oltre a quelli di Rebitalia che farà un servizio esclusivamente di scooter e oltre a quelli di Bit Mobility che farà un servizio sia di scooter che di auto Poter usufruire del servizio è facile basta infatti registrare l'app di Picchirent dedicata dagli store registrandosi con una patente di guida e risultando almeno maggiorenni i veicoli sono di dimensioni ridotte Sì, un passo importante Bari è la quinta città d'Italia nei servizi di sharing in una classifica che ci ha visto concorrere esclusivamente con i monopattini in attività con lo sharing Adesso con l'attivazione sia del car sharing sia dello scooter sharing e prossimo intronatare anche del bike sharing contiamo di scalare ulteriormente queste posizioni in classifica e guadagnare una maggiore fetta di trasporto che venga effettuata con sistemi di sharing il che significa che a parità di mezzi che circolano in città le persone che ne usufruiscono sono maggiori e questo aiuta per decongestionare il traffico e soprattutto per favorire quei sistemi di mobilità che sono più a favore dell'ambiente e quindi più sostenibili Torniamo ad occuparci adesso di cronaca politico-amministrativa lo dicevamo anche nel telegiornale regionale poco fa oggi torna a riunirsi la massima a Sise e Pugliese dopo il ponte festivo e dopo il lutto regionale proclamato dallo stesso governatore Michele Emiliano le surroghe al centro dell'attenzione vediamo come stanno andando le cose ci colleghiamo nuovamente con il palazzo di via Gentile sede del consiglio regionale pugliese dove c'è il nostro Antonio Bucci a te Antonio eccoci Gianni solo per confermarvi che le surroghe sono ufficialmente operative breve cerimonio in due tempi con la prima l'assemblea vota ed è stato fatto all'unanimità le dimissioni dei titolari di scrano in carica con la seconda si vota dunque l'avvicendamento con i nuovi titolari da questo momento tanto Napoleone Cera quanto Fabio Romito sono ufficialmente consiglieri regionali nello specifico e al momento l'assemblea sta votando la possibilità di discutere anche la mozione di Fabiano Amati demma presidente della commissione bilancio e già assessore alle opere pubbliche di discutere appunto la mozione a sua firma sull'autonomia contro l'autonomia differenziata ricordiamo che questa settimana è quella nella quale Roberto Calderoli neoministro per gli affari regionali incontra i governatori nella giornata di giovedì incontra Antonio De Caro proprio per stabilire una possibile roadmap di quel provvedimento la mozione di Fabiano Amati serve a sancire la posizione della massima sise pugliese in realtà vi posso anche confermare che si tratti di una sorta di cornice perché poi la presidenza del consiglio regionale così come l'assemblea in toto ha confermato di voler aprire un tavolo di confronto con le associazioni sindacali con le università con i corpi intermedi all'interno del quale discutere quella che sarà la bozza del ministero e la bozza che sarà poi proposta da Roberto Calderoli ai governatori dunque sarà quella la sede nella quale la regione Puglia farà da tavolo di compensazione e nella quale poi proverà a predisporre anche ulteriori provvedimenti però chiaramente la mozione è un atto simbolico le mozioni non sono vincolanti nei confronti del governo ma servono a dare l'indirizzo da parte dell'assemblea e dunque a sancire comunque una posizione politica vediamo come va a finire intanto se non ci sono ulteriori domande vi restituiamo la linea sì grazie va bene così Antonio poi ovviamente sulla conclusione esito finale di questo consiglio regionale vi daremo notizie nel corso delle prossime edizioni dei nostri notiziari e ovviamente sui nostri social sul nostro sito www.antennasud.com andiamo avanti adesso ci spostiamo a Roma perché c'è stato un evento che ha coinvolto l'interesse di molti ovvero la presentazione del nuovo calendario della Polizia di Stato calendario 2023 sono stati gli stessi poliziotti gli autori degli scatti che hanno poi dato vita alle tavole alle 12 tavole del calendario della Polizia di Stato del prossimo anno sentiamo Francesco Manigrasso nostro corrispondente a Roma 12 tavole che racchiudono l'impegno quotidiano della Polizia di Stato un calendario che è un inno alle bellezze dell'Italia le foto realizzate in giro per il bel paese il patrimonio ambientale e artistico d'Italia catturano il lavoro dei poliziotti e delle poliziotte da sempre impegnati al servizio delle comunità il nostro messaggio è quello che noi speriamo anche con il calendario fatto da nostro personale appassionato di fotografia è quello di restituire un'immagine di un'amministrazione un'immagine di quotidianità e di operatività è un'immagine che faccia sì che i cittadini le persone ci possano vedere come siamo sempre a loro disposizione l'edizione del calendario di quest'anno è stata realizzata dai fotografi della polizia di Stato che hanno voluto così valorizzare lo spirito identitario con l'obiettivo di mettere in risalto i valori della legalità della sicurezza e del rispetto per l'ambiente e la natura abbiamo pensato di valorizzare le attività della polizia nelle varie piazze d'Italia avere delle bellezze d'Italia come sfondo per valorizzare fondamentalmente il lavoro che opera la polizia in tutta Italia da nord a sud andiamo dalle squadre nautiche della questura di Venezia ai Nox la polizia stradale volanti eccetera addirittura anche un equipaggio in bicicletta una pattuglia di Moena e unità cinofile quindi abbiamo voluto rappresentare quante più specialità possibili con il ricavato della vendita del calendario l'unice fin tende a raggiungere oltre 2 milioni di persone con il ripristino di pozzi e sistemi idrici il trattamento dei bambini malnutriti e la fornitura di istruzione e il conseguente supporto per la loro protezione e adesso andiamo a Bitonto per il Festival della Lirica sentiamo Antonella Fazio al via la quinta edizione dell'Oltre Lirica Music Festival 2022 Classic Weekend Contemporari Kermes musicale organizzata dall'associazione Angeli Eventi il pubblico avrà la possibilità di assistere a Bitonto per cinque appuntamenti tra novembre e dicembre a convegni e concerti che avranno come fir rouge la musica in tutte le sue forme con un'area mitteleuropea da quella moderna e contemporanea pugliese all'intramontabile tango di Astor Piazzolla esclusiva regionale la presenza dei solisti veneti non mancheranno inoltre formazioni in arrivo da altri paesi europei agli spettacoli in programma poi si aggiungono due fuori abbonamento sempre al traetta di Bitonto previsti per il 27 novembre e il 3 dicembre voce d'angelo tributo del celebre soprano Renata Tebaldi nel centenario della nascita e di anime sottili prima nazionale con il concerto del compositore pluripremiato di musica ebraica Riccardo Joshua Moretti oltre a lirica quest'anno si aspetta la definizione e la dicitura contenuta nel sottotitolo cioè quello di un rapporto di analisi tra musica classica e musica contemporanea perché la vocazione dell'angelo di eventi è stata sempre quella di operare comunque nel mondo dello spettacolo della tradizione una iniziativa che destagionalizza un po' l'offerta l'offerta culturale allora da subito appena è arrivata la proposta di questa di questa iniziativa l'abbiamo condivisa perché riteniamo che la musica nella fattispecie la musica lirica sia avvertita sia voluta dalla nostra comunità dalla nostra città e adesso ci occupiamo di una manifestazione che si sta tenendo presso l'area espositiva della Fiera del Levante di Bari e si parla di wedding di matrimoni promessi sposi in fiera vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta il servizio che segue firmato da Ilaria Delvino per promessi sposi il salone dedicato al wedding è l'anno della ripartenza in fiera del Levante Bari 216 espositori rispetto ai 147 dello scorso anno appuntamento nel nuovo padiglione dal 10 al 13 novembre i numeri del settore sono promettenti per la Puglia con le richieste quasi rattoppiate rispetto alla prepandemia che portano la regione in testa alla classifica delle regioni italiane più gettonate per i matrimoni stranieri a Bari quattro giorni nei quali i visitatori potranno partecipare a diverse attività tra cui la presentazione delle nuove collezioni inoltre due aree del salone saranno riservate anche al wedding food and cake il Levante cooking e Levante cake si susseguiranno show cooking a cura di chef pugliesi contest a tema e corsi di formazione e sarà possibile anche assaggiare le loro creazioni la 36esima edizione vede intanto un 47% di aziende in più quindi significa che le aziende stanno scaldando i motori per la prossima annata che deve essere per forza di cose deve essere ricca anche perché si va incontro con la crisi energetica e si va incontro insomma a problemi economici chi viene in fiera ed è interessato al matrimonio in quattro giorni lo potrà confezionare risparmiando ben oltre il 30-35% anche aderendo alle offerte promozionali le offerte fiere che ogni azienda fa ma in fiera non trova solo l'offerta economica non c'è solo domanda offerta ci sono una serie di eventi collaterali che servono anche insomma ad aglietare le ore passate in fiera come si sposi è un appuntamento importante per la città per tanti eventi che accadono in città e per tanti sposi che scelgono Bari o la regione Puglia per questo giorno particolare è un modo per esporre ma lo sentimento può farsi conoscere a Bari ci sono numerosi atelier che confezionano abiti da sposa e vengono tra l'altro richieste in quasi tutto il mondo sia per l'abito da sposa quindi settore sartoria ma anche le nostre location sono richieste e adesso abbiamo due notizie prima di salutarci giunta in redazione poco fa una riguarda il sindaco di Bari Antonio De Caro che ha chiesto al governo sfruttando anche la presenza nella capologo regionale del ministro dell'interno Matteo Piantedosi ulteriori risorse di poter utilizzare la stessa procedura semplificata del 2022 questo nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo chiesto al governo ha detto De Caro di ottenere ulteriori risorse e di poter usare la stessa procedura semplificata che abbiamo utilizzato in quest'anno per poter far fronte all'aumento dei costi perché altrimenti quei progetti con l'aumento attuale dei costi non possono essere attuati il sindaco di Bari che è anche lo ricordiamo presidente dell'Anci l'associazione nazionale comuni di Italia a margine dell'inaugurazione del primo centro di urno in Italia per le vittime di tratta rispondendo alle domande sui fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo avuto disponibilità da parte del governo proseguito e concluso De Caro nei prossimi giorni faremo un'ulteriore cabina di regia perché secondo noi sindaci dobbiamo mettere appunto ulteriori semplificazioni nella fase autorizzativa perché altrimenti rischiamo di non rispettare la data del 2026 e come sapete ci sono in ballo finanziamenti molto importanti per pensare soltanto pensare di perderli prima di chiudere abbiamo un'ultima notizia che giunge dal territorio lucano da Matera ma che reputiamo molto importante e interessante soprattutto nei giorni scorsi è stata trafugata un'opera esposta nella sede di Palazzo Lanfranchi del Museo Nazionale di Matera si tratta del dipinto effetto di neve databile al settimo decennio del XIX secolo dell'artista Venosino Giacomo De Chirico facente parte della collezione Camillo Del Rico di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza ha presa la notizia a poche ore dal suo insediamento il ministro della cultura Gennaro San Giuliano aveva subito inviato una lettera al comandante dei Carabinieri del comando per la tutela del patrimonio culturale il riservo sulla vicenda determinato da una scelta investigativa per consentire alle forze dell'ordine di effettuare accertamenti speditivi in città dunque massimo riservo sulle indagini che sono attualmente in corso chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale l'informazione su Antenna Sud come sapete proseguireà tra poco con il Tg di Taranto poi a seguire le notizie da Brindisi e Lecce grazie per l'attenzione arrivederci per le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social di Tg di Taranto grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie a tutti